Sto un po' inclinato, qua passo, ma quando arrivo giù in fondo, quando sto giù in fondo... Fa una cosa, tanto ce la fai, ascolta, ce la fai, leggermente poco poco, perché qua ci sono 30 centimetri, signo, ma che teme si riprende? Ah, qua c'è le cose bloccante, 30 centimetri, vai, che ce la fai, guarda, faccio qua, va, leggermente la coda a fortissima e vai. Fa una cosa, leggermente a destra, a sinistra, leggermente a sinistra, dopo a sinistra, tutta la sinistra, vai, 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 vai. Lo sai che c'è? Che se staccio troppo, io sto messo così, se io mi accosto troppo, dopo la parte finale la coppo. No, ma è solo che sto accanto davanti, perché poi sta accanto, tu staghi, poi ci passano. Se ne abbiamo a disposizione, 4-5 baldigioni, spostiamo il Mercedes. Sf-15 Sf-15